Non bastava il covid, ora in Puglia fa a Capolino il vaiolo delle scimmie. Sono 16 i casi registrati nella regione, 714 quelli complessivamente scoperti in Italia, dei quali 194 sono i casi collegati a viaggi all'estero. Aumentano di qualche unità i contagi anche nel territorio pugliese dove l'ultimo ad ammalarsi in ordine di tempo è stato un 31enne di Barletta proveniente da un viaggio in Marocco. L'uomo, che comunque non versa in condizioni critiche, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie. Ma quali sono i sintomi che potrebbero far pensare di aver contratto il vaiolo delle scimmie? Innanzitutto febbre, poi mal di testa, spossatezza, sonnolenza e dolori muscolari. E poi ancora lesioni cutanee con possibili croste e linfonodi ingrossati, sintomi che generalmente durano da un paio di settimane ad un mese prima di scomparire nei casi ovviamente meno gravi. Il virus può diffondersi attraverso la saliva o le goccioline respiratorie, ma anche attraverso i fluidi corporei e le croste altamente infettive. Occhio anche agli indumenti contaminati e alle attività sessuali. Covid, vaiolo delle scimmie e virus West Nile, che in Italia da giugno, a sentire i dati, ha registrato già 230 casi e 13 decessi. Si tratta di un agente patogeno proveniente dall'Africa, con le punture di zanzara, che rappresentano il principale mezzo di trasmissione all'uomo.